Sì, il mio manager prende il 50% di quello che prendo io, i spari non ne ho avuti, l'avversario l'ho visto in videocassetta l'altra settimana e sempre questa armata Branca Leon che va. Del resto questo è un piccolo sogno perché un pugile di un piccolo paese, di una piccola città che si allena in una cantina e che va a vincere un titolo europeo è già una storia. Tutto fuor che la box ha là, tutto. Doi che si dà un pacchi, le vielle viodi, ma non ce le besti sono viodi, sono una roba del genere, anzi, qualche viodi che fanno la roba, ci vengono distinta la talmiesa a di video, almeno me. Destro! Destro! Dai! 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 Ecco, come ho dunque hai visto. Eh, 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 doppio! Documenti. Bella giornata. Sposta. Ok, ciao. 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 107, 108, 109. Va bene, va bene. Ho un peso massimo, può fare anche 200. Ufff. Sì, ci ha fatto, un po' di questo? Ho un pesco! Ci fa provare il fatto il fatto. Sì, ci sia un po' di questo. Sì, ci sia un po' di questo. Anche a quella par isn'to! Sì, ci sia un po' di questo. Sì, è una paraca particolare! No, è un po' di questo. Sì, si può fare più, è un po' di questo. Si, ci sia un po' di questo! Grazie a tutti. 10 in palo, 10 manca 10, sia, finisci te, dai te, manca 10, si fero, vai, metti il sinistro.